Noi stiamo continuando per precauzione a salare, a spartire il sale sui tratti in pendenza, sui ponti, sui tosse autopassi della città e anche sulle strade brutte con trafittate. Non dovrebbe fermarsi la neve sulla pavimentazione stradale, speriamo, domani è prevista che aumenti la temperatura, quindi dovremmo avere in pendenza, per precauzione continuiamo a fare l'operazione di salare delle strade in modo da non far attaccare la neve sulla strada. Le strade sono tutte percorribili in città, però se uno non ha proprio la necessità di uscire conviene non prendere l'automoto, perché con questo freddo conviene stare a casa perché puoghiano.